io mi ripetevo soffocando i singhiozzi le parole con le quali gilbert aveva lasciato prorompere la sua gioia di non venire per parecchio tempo agli champelize ma già l'incanto di cui per il semplice fatto di agire si riempiva il mio animo appena pensava a lei la posizione particolare unica seppur dolorosa in cui mi poneva inevitabilmente nei confronti di gilbert la costrizione intima di un'abitudine mentale avevano cominciato ad aggiungere anche a quell'impronta di indifferenza qualcosa di romantico e tra le mie lacrime prendeva forma un sorriso che non era se non il timido abbozzo di un bacio e quando venne l'ora della posta quella sera come tutte le altre mi dissi riceverò una lettera di gilbert mi dirà finalmente che non ha mai cessato di amarmi e mi spiegherà la ragione misteriosa per cui è stata costretta a tenermelo nascosto fino ad ora fingendo di poter essere felice senza vedermi la ragione per cui ha assunto le sembianze della gilbert semplice compagna ogni sera mi dilettavo a immaginare questa lettera mi sembrava di leggerla me ne recitavo ogni frase di colpo mi fermavo spaventato capivo che se dovevo ricevere una lettera di gilbert in ogni caso non poteva essere quella perché ero io ad averla composta e da quel momento mi sforzai di allontanare il pensiero dalle parole che avrei desiderato mi scrivesse per paura che enunciandole avrei esclusa proprio quelle le più care e più vagheggiate dal campo delle realizzazioni possibili anche se per un'incredibile coincidenza gilbert dal canto suo mi avesse inviato proprio la lettera che avevo inventato riconoscendovi la mia opera non avrei avuto l'impressione di ricevere qualcosa che non provenisse da me qualcosa di reale di nuovo una felicità estranea all'animo mio indipendente dalla mia volontà veramente offerta dall'amore nell'attesa rileggevo una pagina che non mi aveva scritto schilbert ma che almeno mi veniva da lei quella pagina di bergot sulla bellezza dei miti antichi cui si è ispirato la sin e che insieme alla bilia d'agata conservavo sempre accanto a me ero intenerito dalla bontà della mia amica che me l'aveva procurata e poiché ognuno ha bisogno di trovare delle ragioni alla propria passione al punto di essere felice di riconoscere nella persona amata delle qualità che la letteratura o la conversazione gli hanno insegnato a essere degne di suscitare l'amore al punto di assimilarle per imitazione e farne nuove ragioni del proprio amore quando anche tali qualità siano le più opposte a quelle che un tale amore avrebbe ricercato finché si fosse conservato spontaneo come era accaduto a schwan una volta che il carattere estetico della bellezza di odette io che avevo subito amato Gilbert fin dal tempo di Combré in virtù di tutto l'ignoto della sua vita nel quale avrei voluto precipitarmi incarnarmi abbandonando la mia che non era più nulla pensavo adesso come a una fortuna inestimabile che di questa mia vita troppo nota, disprezzata Gilbert sarebbe potuta diventare un giorno l'umile ancella l'indulgente e confortevole collaboratrice che la sera, aiutandomi nei miei lavori avrebbe raccolto per me delle pubblicazioni quanto a Bergot quel vecchio infinitamente saggio e quasi divino a causa del quale avevo preso ad amare Gilbert prima ancora di averla vista ora lo amavo soprattutto a causa di Gilbert con identico piacere guardavo le pagine che aveva scritto sull'assin e il foglio chiuso da grandi sigilli di cera bianca legato da fluttuanti nastrini color malva nel quale lei me le aveva portate baciavo la biglia ad Agatha che era la parte migliore del cuore della mia amica la parte che non era frivola ma fedele e che sebbene adorna del fascino misterioso della vita di Gilbert mi rimaneva accanto abitava nella mia camera si coricava nel mio letto ma la bellezza di quella pietra e anche la bellezza di quelle pagine di Bergot che ero felice di associare all'idea del mio amore per Gilbert come se nei momenti in cui questo mi appariva proprio come un nulla e se gli dessero una sorta di consistenza mi accorgevo che erano anteriori a questo amore che non gli somigliavano che i loro elementi erano stati fissati dal talento o dalle leggi della mineralogia prima che Gilbert mi conoscesse che nulla nel libro o nella pietra sarebbe stato diverso se Gilbert non mi avesse amato e che di conseguenza niente mi autorizzava a leggere in loro un messaggio di felicità e mentre il mio amore aspettando sempre dall'indomani la confessione di quello di Gilbert annullava disfaceva ogni sera il lavoro malfatto della giornata nell'ombra di me stesso una lavorante sconosciuta non gettava via i fili strappati e ridisponeva senza curarsi di compiacermi né di lavorare per la mia felicità in un ordine diverso che dava a ognuna delle sue opere non avendo alcun particolare interesse per il mio amore non avendo deciso in anticipo che io fossi amato raccoglieva gli atti di Gilbert che mi erano parsi inesplicabili e le sue colpe che avevo giustificato allora gli uni e le altre acquistavano un senso pareva dire quest'ordine nuovo che vedendo Gilbert invece di venire agli Champs-Élysées andare a una matinée fare delle commissioni con l'istitutrice e prepararsi a un'assenza per le vacanze di Capodanno avevo torto di pensare lo fa perché frivola o dolce da che se mi avesse amato avrebbe cercato di essere l'una e l'altra e se fosse stata costretta ad obbedire l'avrebbe fatto con la stessa disperazione che provavo io i giorni in cui non la vedevo diceva ancora quest'ordine nuovo che dovevo pur sapere che cosa significava amare dal momento chiamavo Gilbert mi faceva notare la preoccupazione continua che avevo di farmi bello ai suoi occhi per cui cercavo di convincere mia madre a comprare a Françoise un impermeabile e un cappello con una piuma azzurra o piuttosto a non mandarmi più agli Champs-Élysées con quella cameriera di cui arrossivo al che mia madre rispondeva che ero ingiusto con Françoise che era una brava donna molto affezionata e anche quel bisogno unico di vedere Gilbert che mi induceva già qualche mese prima a non pensare ad altro che a cercare di sapere in quale modo avrebbe lasciato Parigi e dove sarebbe andata sembrandomi il paese più delizioso un luogo d'esilio senza di... sembrandomi il paese più delizioso un luogo d'esilio senza di lei e non desiderando che restare sempre a Parigi finché avessi potuto vederla agli Champs-Élysées e non si faceva scrupolo e non si faceva scrupolo dimostrarmi che una simile preoccupazione e un simile bisogno inutilmente li avrei cercati negli atti di Gilbert lei al contrario apprezzava la sua istitutrice senza preoccuparsi di quel che ne pensassi io trovava naturale non venire agli Champs-Élysées se si trattava di far compere con la signorina piacevole se si trattava di uscire con sua madre e anche a supporre che mi avesse permesso di andare a trascorrere le vacanze nella stessa località dove andava lei quanto meno nella scelta di questa località teneva conto del desiderio dei suoi genitori dei mille divertimenti di cui le avevo parlato e non certo del fatto che fosse quello dove la mia famiglia aveva intenzione di mandarmi a volte quando mi assicuravo di volermi meno bene che a un altro dei suoi amici meno bene del giorno innanzi perché le avevo fatto perdere la partita per una negligenza io le chiedevo perdono le chiedevo quel che dovevo fare perché ricominciasse a volermi bene come prima perché mi volesse bene più degli altri avrei voluto che mi rispondesse che era già così la supplicavo come se avesse potuto modificare il suo affetto per me a suo o a mio capriccio per farmi piacere semplicemente con le parole che avrebbe detto a seconda del mio comportamento buono o cattivo non sapevo dunque che quel che provavo per lei non dipendeva né dai suoi atti né dalla mia volontà diceva infine l'ordine nuovo disegnato dalla lavorante invisibile che se possiamo desiderare che gli atti di una persona che finora ci ha fatto soffrire non siano stati sinceri vi è nella loro successione una chiarezza contro la quale il nostro desiderio non può nulla e che a quella piuttosto che a lui dobbiamo chiedere quali saranno i suoi atti di domani queste parole nuove il mio amore le stava ad ascoltare e se lo persuadevano che l'indomani non sarebbe stato diverso da tutti gli altri giorni che il sentimento di Gilbert per me era troppo radicato per poter cambiare era l'indifferenza che nella mia amicizia con Gilbert ero io solo ad amare è vero rispondeva il mio cuore non c'è più niente da fare di questa amicizia non cambierà allora fin dal giorno successivo oppure aspettando una festa se venera una prossima un anniversario magari l'anno nuovo uno di quei giorni che non sono simili agli altri in cui il tempo ricomincia su nuove fondamenta gettando l'eredità del passato non accettando il lascito delle sue tristezze chiedevo a Gilbert di rinunciare alla nostra vecchia amicizia e di gettare le basi di un'amicizia nuova avevo sempre a portata di mano una pianta di Parigi che potendosi distinguere la via dove abitavano il signore e la signora Schwan mi pareva contenere un tesoro e per mio piacere ma anche per una sorta di fedeltà cavalleresca pronunciavo il nome di quella strada a qualsiasi proposito tanto che mio padre non essendo come la mamma e la nonna al corrente del mio amore mi chiedeva ma perché parli continuamente di quella via non ha niente di straordinario è molto piacevole abitarci perché è a due passi dal bois ma ve ne sono altre dieci nella stessa posizione mi ingegnavo in ogni istante per far pronunciare ai miei genitori il nome di Schwan certo io me lo ripetevo mentalmente senza posa ma avevo bisogno anche di ascoltare la sua sonorità deliziosa e di far risuonare quella musica la cui lettura muta non mi era sufficiente quel nome di Schwan d'altronde che conoscevo così da tanto tempo era adesso per me come succede a certi afagici nei confronti delle parole più comuni un nome nuovo era sempre presente nel mio pensiero e tuttavia questo non riusciva ad assuefarvisi lo scomponevo lo compitavo la sua ortografia era per me una sorpresa e aveva smesso ad un tempo di essermi familiare e di sembrarmi innocente le gioie che provavo nell'ascoltarlo le credevo così colpevoli che mi pareva si dovesse indovinare il mio pensiero e si cambiasse discorso se cercavo di portarlo su di esso ripiegavo sugli argomenti che riguardavano ancora Gilbert ripetevo senza fine le stesse parole e pur sapendo bene che erano soltanto parole parole pronunciate lontano da lei che lei non sentiva che ripetevano ciò che era senza poter modificare niente tuttavia mi sembrava che a forza di maneggiare di rimestare così tutto ciò che era vicino a Gilbert forse ne avrei fatto scaturire qualcosa di buono tornavo a dire ai miei genitori che Gilbert voleva molto bene alla sua istitutrice come se questa frase ripetuta per la centesima volta potesse avere infine l'effetto di far comparire improvvisamente Gilbert che veniva a vivere per sempre con noi riprendevo l'elogio della vecchia signora che leggeva ai debatt avevo insinuato ai miei genitori che era un'ambasciatrice o forse un'altezza reale e continuavo a celebrare la sua bellezza la sua magnificenza la sua nobiltà fino al giorno in cui dissi che stando al nome pronunciato da Gilbert doveva chiamarsi signora Blotin oh ma ho capito chi è esclamò mia madre mentre io mi sentivo arrossire dalla vergogna in guardia in guardia come avrebbe detto il tuo povero nonno ed è lei che trovi bella ma è orribile e lo è sempre stata è la vedova di un uscere non ti ricordi quando eri piccolo i maneggi che facevo per evitarla alla lezione di ginnastica dove senza conoscermi voleva venire a parlarmi col pretesto di dirmi che eri troppo bello per essere un ragazzo ha sempre avuto la smania di conoscere gente e deve proprio essere una specie di pazza come ho sempre pensato se davvero conosce la signora a schwan perché anche se era di un ambiente molto modesto almeno per quanto ne sappia non c'era mai stato niente da ridire su di lei ma si sentiva sempre in dovere di far conoscenze è orribile è spaventosamente volgare e per di più è piena di boria quanto a schwan per cercare di assomigliargli passavo tutto il tempo a tavola a tirarmi il naso e a stropicciarmi gli occhi mio padre diceva questo ragazzo è idiota diventerà un mostro soprattutto avrei voluto essere calvo come schwan mi sembrava un essere così straordinario che trovavo meraviglioso il fatto che lo conoscessero a loro volta delle persone che io frequentavo e che tra le vicende di una giornata qualunque si potesse avere l'avventura di incontrarlo è una volta mia madre nel raccontarci come ogni sera a cena le commissioni che aveva fatto nel pomeriggio dicendo semplicemente a proposito indovinate che ho incontrato ai trois quartiers nel quartiere degli ombrelli schwan fece sbocciare in mezzo al suo racconto per me assai arido un fiore misterioso che malinconica volutà apprendere che quel pomeriggio profilandosi tra la folla la sua sagoma soprannaturale swan era andato a comperare un ombrello tra gli avvenimenti grandi e minimi ugualmente indifferenti quello risvegliava in me le vibrazioni particolari di cui era perpetuamente agitato il mio amore per Gilbert mio padre diceva che non mi interessavo a niente perché non prestavo ascolto quando si parlava delle conseguenze politiche che poteva avere la visita di rete o dosio in quel momento ospite della Francia e si diceva suo alleato ma in compenso quanta voglia avevo di sapere se swan indossava il suo cappotto con la mantellina vi siete salutati chiesi ma naturalmente rispose mia madre la quale aveva sempre l'aria di temere che se avesse confessato che eravamo in urto con swan qualcuno avrebbe tentato di riconciliarci più di quanto lei non si augurasse per via della signora swan che non voleva conoscere è stato lui a salutarmi io non l'avevo visto ma allora non avete litigato litigato ma perché avremmo dovuto risposi vivacemente come se avesse attentato alla finzione dei suoi buoni rapporti con swan e cercato di favorire un ravvicinamento potrebbe volersene per il fatto che non è stato più invitato non sia obbligati a invitare tutti quanti forse che lui ci invita io non conosco sua moglie eppure con bre ci veniva ebbene sì veniva con bre e poi a parigi altro da fare e io anche ma ti assicuro che non avevamo affatto l'aria di due persone che sono in lite siamo rimasti insieme un momento perché tardavano a dargli il suo pacco ma chiesto due notizie ma detto che giocavi con sua figlia aggiunse mia madre colmandomi di stupore per il prodigio di esistere nella mente di swan e ancora di più di esistere in maniera abbastanza completa da sapere quando tremavo d'amore davanti a lui agli champelise quale fosse il mio nome chi era mia madre e poter amalgamare intorno alla mia qualità di compagno di sua figlia alcune informazioni sui miei nonni sulla loro famiglia il luogo dove abitavano certi particolari della nostra vita ad un tempo forse anche a me innoti ma mia madre non pareva aver trovato un'attrattiva particolare in quel reparto dei trois quartiers dove lei aveva rappresentato per swan nel momento in cui l'aveva vista una persona ben definita con cui aveva dei ricordi comuni tali da motivare in lui l'impulso di avvicinarla il gesto di salutarla d'altra parte né lei né mio padre parevano trovare nel parlare dei nonni di swan del titolo di agente di cambio onorario un piacere superiore a ogni altro la mia immaginazione aveva isolato e consacrato nella Parigi sociale una certa famiglia come aveva fatto nella Parigi di Pietra per una certa casa di cui aveva scolpito il portone e reso preziose le finestre ma quegli ornamenti ero soltanto io a vederli mia padre e mia madre così come trovavano la casa abitata da swan simili alle altre case costruite nella stessa epoca nel quartiere del Bois allo stesso modo la famiglia di swan pareva loro dello stesso tipo di molte altre famiglie di agenti di cambio la giudicavano in modo più o meno favorevole a secondo del grado in cui aveva partecipato a meriti comuni al resto dell'universo e non ci vedevano niente di eccezionale quel che invece apprezzavano lo trovavano in misura uguale o più elevata altrove così dopo aver osservato che la casa era ben ubicata parlavano di un'altra che era in una posizione ancora più bella ma che non aveva nulla a che vedere con Gilbert oppure di finanziari di un livello superiore al suo nonno e se per un momento era sembrato che fossero del mio stesso parere era per un malinteso che non tardava a dissiparsi il fatto è che per cogliere in tutto ciò che circondava Gilbert una qualità sconosciuta analoga nel mondo delle emozioni a quel che può essere nel mondo dei colori l'infrarosso i miei genitori erano privi di quel senso supplementare e momentaneo di cui mi aveva dotato l'amore i giorni in cui Gilbert mi aveva annunciato che non sarebbe venuta gli sciampi di sé cercavo di fare delle passeggiate che mi avvicinassero un poco a lei a volte conducevo François in pellegrinaggio davanti alla casa dove abitavano gli Swan e facevo ripetere all'infinito quel che aveva saputo dall'istitutrice sul conto della signora Swan sembra che abbia molta fiducia in certe medaglie mai si metterà in viaggio se ha sentito la civetta o una specie di tic tac d'orologio nel muro o se ha visto un gatto a mezzanotte o se il legno di un mobile ha scricchiolato è una persona molto credente io così innamorato di Gilbert che se per strada scorgevo il loro vecchio maggiordomo che portava a spasso il cane l'emozione mi costringeva a fermarmi e fissavo sui suoi basettoni bianchi degli sguardi pieni di passione François mi chiedeva che cosa avete poi proseguivamo il cammino fino al loro portone dove un portinaio diverso da tutti gli altri e impregnato fin nei galloni della livrea dello stesso doloroso incanto che avevo percepito nel nome di Gilbert aveva l'aria di sapere che ero uno di quelli a cui l'indegnità originaria avrebbe impedito per sempre di penetrare nella vita misteriosa che era incaricato di custodire e sulla quale le finestre del piano rialzato sembravano consapevoli d'essere chiuse assai meno somiglianti nel nobile panneggio delle loro tende di mussola a una qualsiasi altra finestra che agli sguardi di Gilbert altre volte andavamo su boulevard e mi appostavo all'inizio della rue du Faux mi avevano detto che spesso si poteva vedere Schwam mentre si recava dal dentista e la mia fantasia differenziava a tal punto il padre di Gilbert dal resto dell'umanità e la sua presenza nel mondo reale vi introduceva una tale magia che ancora prima di arrivare alla Madeleine ero emozionato al pensiero di avvicinarmi a una via nella quale poteva inopinatamente avverarsi l'apparizione soprannaturale ma più spesso quando non dovevo vedere Gilbert avendo saputo che la signora Swan passeggiava quasi ogni giorno nel viale delle Acace intorno al grande lago e nel viale della regina Margherita vedavo François verso il Bois de Boulogne esso era per me come quei giardini zoologici dove ci vedono riuniti flore diverse e paesaggi opposti dove al di là di un'altura si trova una grotta e poi un prato delle rocce un corso d'acqua un fossato una collina una palude ma si sa che sono lì soltanto per offrire ai sollazzi dell'ippopotamo delle zebre dei coccodrilli dei conigli russi degli orsi e dell'airone un ambiente appropriato o una cornice pittoresca quanto al Bois ugualmente complesso che riunisce piccoli mondi diversi e chiusi facendo seguire una tenuta fitta ad alberi rossi di querce americane come una coltivazione agricola nella Virginia a una betaglia in riva al lago a una selva dalla quale spunta all'improvviso nella sua morbida pellizza con i suoi bagliocchi d'animale una svelta passeggiatrice era il giardino delle donne e come il viale dei mirti nelle neide folto per loro di alberi di una sola essenza il viale delle acace era frequentato dalle bellezze celebri come di lontano la cima dello scoglio da cui l'otalia si getta nell'acqua e salta di gioia i bambini che si apprestano a vederla così molto prima di giungere al viale delle acace il loro profumo che spandendosi d'intorno faceva presentire la vicinanza e la singolarità di una possente e molla individualità vegetale poi quando mi avvicinavo la cima a intervista delle loro fronde leggere lezziose di un'eleganza facile di un taglio civettuolo e di un tessuto delicato su cui saranno abbattuti centinaia di fiori come colonie alate e vibratili di parassiti preziosi e infine persino il loro nome femminile ozioso e dolce mi facevano battere il cuore ma di un desiderio mondano come quei waltzer che ormai ci evocano soltanto il nome delle belle invitate e che il maggiordomo annuncia l'ingresso di un ballo mi avevano detto che avrei visto nel viale certe signore eleganti che pur non essendo tutte sposate venivano citate abitualmente accanto alla signora Swan ma quasi sempre con il loro nome di battaglia il nome nuovo quando ne avevano uno non era che una sorta di incognito che quanti volevano parlare di loro avevano cura di omettere per farsi capire pensando che il bello nell'ordine dell'eleganza femminile fosse retto da leggi occulte dalla cui conoscenza erano state iniziate e che avevano il potere di attuare accettavano in anticipo come una rivelazione l'apparizione delle loro toilette delle loro carrozze dei mille particolari in cui riponevo la mia fede come un'anima segreta che dava la coesione di un capolavoro a quell'insieme effimero e mutevole era la signora Swan che volevo vedere e ne aspettavo il passaggio emozionato come se fosse stata Gilbert i cui genitori impregnati del suo fascino come tutto ciò che la circondava suscitavano in me altrettanto amore che lei stessa anzi un turbamento più doloroso poiché il punto di contatto con loro era quella parte intima della sua vita che mi era preclusa e infine dato che ben presto venne a sapere come si vedrà che non avevano piacere che io giocassi con lei quel sentimento di venerazione che tributavano sempre a coloro che esercitano senza freno il potere di farci del male assegnavo il primo posto alla semplicità nella gerarchia dei meriti estetici e delle magnificenze mondane quando scorgevo la signora Swan a piedi con una polacca di panno in capo un berrettino rigido e senza tesa incentilito da un'ala di lofoforo un mazzolino di viole sul corpetto attraversare frettolosa il veale delle acace come se fosse stata soltanto la via più breve per tornare a casa e rispondeva con un cenno degli occhi ai signori in carrozza che riconoscendo da lontano la sua figura la salutavano e si dicevano che nessuno era altrettanto chic ma non più la semplicità bensì il fasto ponevo al più alto rango se dopo aver costretto Francois la quale non ne poteva più e diceva che non sentiva più le gambe a camminare su e giù per un'ora vedevo infine nello sbocco del viale che viene dalla porta Dufin immagine per me di un prestigio regale dell'ingresso sovrano del quale nessuna regina autentica mi ha potuto dare in seguito l'impressione da cui avevo del loro potere una nozione meno vaga e più sentimentale portata a volo da due ardenti cavalli esili e stilizzati come se ne vedevano nei disegni di Constantin Guì con un enorme cocchiere a cassetta impellicciato come un cosacco a fianco di un piccolo groom che ricordava il tigre del Fubu Dendort vedevo o meglio sentivo la sua forma imprimersi nel mio cuore come una ferita netta e spossante un'impareggiabile carrozza vittoriana di linea un po' alta e che nel suo lusso ultimo grido lasciava trasparire qualche allusione alle forme antiche sul fondo della quale riposava con abbandono la signora Swan dai capelli ora biondi con una sola ciocca grigia cinti da una sottile banda di fiori per lo più violette da cui ricadevano lunghi veli con in mano un ombrellino color malva sulle labbra un sorriso ambiguo dove io non vedevo che la benevolenza di una maestà e dove c'era soppla tutto la provocazione della cocotte e che lei lasciava posare dolcemente sulle persone che la salutavano quel sorriso diceva in realtà ad alcuni mi ricordo molto bene era delizioso ad altri come mi sarebbe piaciuto è stata la cattiva sorte ad altri ma se volete seguo ancora un momento la fila e appena posso taglio quando passavano degli sconosciuti lasciava ugualmente aleggiare sulle labbra un sorriso ozioso come rivolto all'attesa o al ricordo di un amico che faceva dire com'è bella e solo per certi uomini aveva un sorriso acido forzato timido e freddo che significava sì carogna lo so che avete la lingua di una vipera che non potete fare a meno di parlare mi occupo forse di voi io Coclein passava conversando in mezzo agli amici che lo ascoltavano e faceva con la mano un largo saluto teatrale a delle persone in carrozza ma io non pensavo che alla signora Swan e fingevo di non averla vista perché sapevo che giunta all'altezza del tiro ai piccioni avrebbe detto al cocchiere di uscire dalla fila e di fermarsi per poter discendere a piedi lungo il viale e i giorni in cui mi sentivo il coraggio di passarle accanto trascinavo François in quella direzione a un certo punto infatti nel viale dei pedoni scorgevo la signora Swan camminare verso di noi lasciando spandere dietro di sé il lungo strascico dell'abito color malva vestita come il popolo immagina le regine di stoffe e ricchi ornamenti che le altre donne non portavano chinando a volte lo sguardo sul manico dell'ombrello restando scarsa attenzione ai passanti come se la sua maggiore occupazione e il suo scopo consistessero nel fare un po' di moto senza pensare che la gente la vedeva e che tutte le teste erano girate verso di lei a volte però quando si voltava per chiamare il suo levriero gettava impercettibilmente una sguardo circolare intorno a sé anche coloro che non la conoscevano erano avvertiti da qualcosa di singolare e di eccessivo o forse da una radiazione telepatica come quelle che scatenavano applausi tra la folla ignorante nei momenti in cui la verma era sublime che doveva trattarsi di una persona conosciuta si domandavano chi è interrogavano a volte un passante o si ripromettevano di ricordare il vestito come punto di riferimento per gli amici meglio informati che avrebbero dato loro quanto prima i necessari ragguagli altri passanti fermandosi di colpo dicevano sapete chi è la signora swan il nome non vi dice niente odè decresì odè decresì pareva anche a me quegli occhi tristi ma sapete non deve essere più una giovinetta mi ricordo di esserci andato a letto il giorno delle dimissioni di credo che farebbe bene a non ricordarglielo adesso è la signora swan la moglie di un signore del jockey amico del principe di galles d'altronde è ancora stupenda sì ma se l'aveste conosciuta a quel tempo com'era bella di un